Allora, raccontami la tua stagione, è una stagione importante, stai facendo molti risultati. Sì, sì, sta andando abbastanza bene. Sono iniziato bene l'anno, adesso però sto concentrando più ai campionati elezionali, che saranno il primo luglio e poi si spera ai campionati italiani. Sì, e a proposito di classifica, metà anno? Penso 3-2 e poi si spera a fine anno 3-1. Bene, come stai lavorando? Lavori sempre con la maestra Beatrice Liguore? Centro Tecnico, Accademia? Sì, sì, adesso domani parto per l'Accademia di Bari, vado a fare una settimana di prova per l'anno prossimo e tutto. Senti, dal punto di vista tecnico, dove devi o vuoi migliorare? Per lo più sull'atteggiamento in campo e invece tecnicamente sul servizio. Bene, finora, primi sei mesi, la settimana, la partita, il torneo più bello che hai giocato, qual è? È stato quello là a Dacerra. Ah, bene, bravo. E a livello Juniores? Juniores invece ho vinto abbastanza macro aria, poi abbastanza under, cioè, prima di Juniores è andato abbastanza bene l'ander. Senti, mi presenti tu il tuo compagno di allenamento o no? Sì, si chiama Nicola Vellino, è 3-5. Vediamo, conosciamo Nicola Vellino. Ciao Nicola. Buongiorno. Ciao, presentati a Spazio Tennis. Sono Nicola Vellino, sono 4-1 e spero di passare 3-5 adesso. Oggi hai un buon allenamento, un buon compagno. Sì, sicuramente, sì. Le tue caratteristiche quali sono? No, sono un giocatore d'attacco e cerco sempre di chiudere il punto a rete. Mi piace giocare soprattutto di dritto e mi sto allenando sul rovescio. Chi è il tuo maestro? Beatrice Ligura. Ah, perfetto. Buon allenamento, ragazzi. Grazie.